Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti, bentornati su Gioviac di Spò. Io sono Giovi Spò e questo è il decimo episodio della serie Scontro tra Titani, stagione numero 3, episodio numero 10 per l'appunto. Prima di iniziare l'episodio volevo dirvi che ho notato una cosa. Questa cosa è che le visualizzazioni sono calate di un bel po' sul mio canale. Prima notavo che si arrivava a 200, 300 visualizzazioni circa, 300 era un po' difficile, però 200 sì, tranquillamente. Ora ho notato invece che sono diminuite parecchio. Volevo chiedere a voi perché non guardate più i miei video. Io faccio video per voi, per intrattenermi, anche per un mio personale impiego, per hobby, per passione, per lavoro, tra virgolette, anche se non si guadagna gran che almeno per ora. Poi quando si arriva a parecchi iscritti con parecchie ma milioni di visualizzazioni, allora si inizia a guadagnare un bel po'. Volevo chiedervi perché non guardate i miei video, non so. Ditemi voi lasciando un commento qui in descrizione se volete darmi consigli, miglioramenti, accorgimenti, qualche cosa che non vi va bene nel modo in cui parlo, o nel modo in cui gestisco la cosa, per esempio come le partite, oppure volete che faccia determinati video e determinati no, più video di quelli e meno video di quelli. Cioè ditemelo voi, io ascolto i vostri commenti, io li leggo i vostri commenti, ci mancherebbe. E dunque, detto ciò, spero che commentiate, nello scorso episodio ho chiesto di scegliere tra Boateng o Ouedes. La vostra scelta è stata il difensore centrale tedesco della Bundes, e si tratta di Boateng. Boateng ottimo secondo me, secondo me ottimo. Dunque, si parte con l'ultimo episodio. Ecco la squadra del nostro avversario, allora, bene bene, abbiamo un semi-ibrido, abbiamo Cech, Cricci, Mangalà, David Luiz, e quello è Danilo, mi sa, poi Ramire, si dici, Lucas, Alessandrini, Menez, Ciocci, Lacazette, che è veramente forte, e Cavani, mamma mia, Lacazette e Cavani. Secondo me sono una coppia troppo forte, uno colpisce ottimamente di testa, e l'altro corre come un missile. Alessandrini, pericolosissimo. Oh, porca miseria, ma porca miseria, uffa. Le palle quadrate, ce le ho, quadrate. Lucas se ne va da solo contro Neuer. C'è, è difensore. Dove minchia del cazzo di merda stanno, porca puttana. Di nuovo da solo un giocatore, di nuovo da solo, meno male che ha sbagliato, ma di nuovo da solo lo lasciano. Ma dove cazzo sta in Baile, dove cazzo sta Chiellini, Boateng, dove cazzo andate? Di nuovo da solo. Oh, ma porca puttana, Boateng, so tre volte che te lo perdi. Ma vaffanculo assorite, va. Per la miseria. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, benedzi, che mi sento di testa. Sovrasto chi cazzo è quel coglione che stava a marcarlo. Ma porca puttana sto gioco. Vuoi vedere che segna di testa? Eh, che cazzo parlo a fare io? Che cazzo parlo a fare io? Che cazzo parlo a fare? Vai, Candreiva. E segna. Ma dai! Ma che cazzo fate? E che veramente? Vai, di Natale. Segna tu, segna! Sì! 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 Almeno loro, almeno loro, cazzo. Almeno loro. Vai, di Natale. Vai, di Natale. Fai doppia, 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 doppia il cazzo. Comunque, vabbè. Non fa niente. Un gol di Natale. Ci sta. Ci sta. Grazie. Almeno di Natale, vai. Dunque, posso già dirvi direttamente la scelta, tra qualche secondino. Allora, potrete scegliere tra Alaba, siccome ha fatto un solo gol di Natale, oppure Jansen. Dunque, commentate con la vostra scelta. E commentate, naturalmente, con qualche miglioramento che vi ho chiesto a inizio video. Dunque, commentate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale, se non siete già iscritti. Qui, Giovispo, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!